Ciao Angela, e come? Compri ancora l'acqua in bottiglia? Perché Manuel dal rubinetto di casa tua esce acqua pura? Certo! Vedi Angela, ho fatto installare l'impianto di purificazione Frizzi e direttamente dal rubinetto ho sempre acqua pura, liscia, gassata e fresca, senza calcare. Ma come faccio ad averla anch'io? Frizzi è ovunque, chiama subito Frizzi! All'819 84 94 Sì, ma quanto costa? Niente! L'impianto è a costo zero, paghi solo la manutenzione. Comunque Frizzi è ovunque.